Benvenuti a tutti gli amici di Planetram, vi ringrazio di essere venuti nel nostro stand ATTAC, io sono Bovani Andrea, il presidente della BOMA, dall'inizio del 2013 siamo diventati branch dell'ATTAC per cui gestiamo la distribuzione in tutta Europa, siamo cresciuti in tutti gli anni grazie a tutte le persone che ci sono attorno come Mauro Gatto che è uno dei nostri indosseri ufficiali, questo è il nostro stand, qui possiamo vedere una serie di tipologie di pelli da rullante come per esempio la Terry Bossio Signature di cui Terry è il nostro indossero ufficiale, sopra possiamo vedere Bobby Rondinelli, Charlie Adams e tutta un'altra serie di tipologie di pelli che potete trovare nel nostro catalogo. ATTAC coltruisce pelli da oltre 30 anni, è leader del mercato in America, sta cercando di espandere nuovamente il mercato in tutta Europa e ha chiesto la collaborazione nostra, le potete trovare in tutti i migliori negozi d'Italia ed in futuro anche in molte altre parti d'Europa vi ringraziamo a tutti e speriamo che vi piacciono le nostre pelli qui con noi il nostro indossero ufficiale Mauro Gatto, che gli passo la parola e ci suonerà anche una delle nostre e ci suonerà una delle nostre Terry Bossi ufficiali Grazie a tutti Grazie a Mauro Gatto e alla redazione di Planet Ram